Partanza in salita per il processo per il falso in prospetto, uno dei filoni di inchiesta sul crack di Banca Etruria, che vede seduti sul banco degli imputati Giuseppe Fornasari, ex presidente dell'Istituto di Credito, Luca Bronchi, ex direttore generale e David Canestri, responsabile del Risk Management. Prima infatti c'è stato il cambio di giudice ed adesso la richiesta di uno spostamento del procedimento da Rezzo a Roma per competenza territoriale. L'inchiesta ruota attorno alla comunicazione che l'Istituto presentò alla Consob nel 2013 relativo al collocamento delle famigerate obbligazioni subordinate. Secondo l'accusa sarebbe stato l'allora direttore, su indicazione del CDA, a compilare il prospetto ritenuto ingannevole per i risparmiatori, un'ipotesi di reato che vede il concorso di Fornasari e Canestri. Nel prospetto non sarebbero state chiare le reali condizioni di crisi in cui la banca versava e non sarebbe stato inoltre specificato nemmeno il grado di rischio dei titoli, diventati poi carta straccia nel 2015. A presentare in aula di fronte al giudice Stefano Cascione un'eccezione riguardo alla competenza territoriale, adesso è stato illegale di Canestri Luca Fanfani, secondo il quale appunto il prospetto fu presentato nella sede romana della Consob. Il giudice dovrà pronunciarsi in merito il prossimo 3 febbraio. Nel corso dell'ultima udienza infine sono state presentate anche altre richieste di costituzione di parte civile, altri tre risparmiatori e federconsumatori di Arezzo, regionale e nazionale che potrebbero così andare ad aggiungersi ai circa 90 già ammessi in udienza preliminare.